La Calabria parte proprio dai mondiali di kitesurf ed è molto importante perché questo ci mondializza nel senso che è uno sport che nel mondo ha delle spiagge specifiche e non è uno sport che si possa praticare da tutte le parti. Il fatto che la Calabria abbia questa meravigliosa spiaggia, gizzeria, che è riconosciuta da tutti gli sportivi e da tutti i campioni di kite vuol dire che noi abbiamo quel quid in più e che noi dobbiamo assolutamente sfruttare. La Calabria si riapre al turismo, al turismo popolare, al turismo pop, ma si riapre anche ad un turismo specifico e si riapre a degli sport che sono praticati proprio in zone specifiche, quindi vuol dire che abbiamo quelle caratteristiche che altri non hanno, assommate da noi ad altre caratteristiche che sono leggermente più comuni, quindi le spiagge per le famiglie, le spiagge per gli sportivi, le spiagge per l'agonismo e questa è una cosa molto importante. Questo premio che noi abbiamo avuto dalla natura, il nostro ambiente è veramente vario, vario, noi però lo stiamo sfruttando con le migliori intelligenze che stanno lavorando per ottimizzare sempre di più le offerte calabresi. L'Italia sta ripartendo, noi siamo orgogliosi, con anche il sostegno della Regione Calabria, di ripartire con quello che è un evento che in questi anni ci ha messo all'attenzione del mondo, quindi ringraziamo gli organizzatori, proprio lì all'Anglos Beach siamo stati anche a lanciare il nostro progetto che riguarderà il turismo nelle radici, insieme a Lucio Presta Calabria Terra dei Padri. Numeri importanti, dal 7 al 18 luglio da tutte le parti del mondo, un mondiale che non solo è un avvenimento sportivo fondamentale nell'etapa appunto di questo mondiale, ma porterà in Calabria a seguito tanti turisti. Questo è un evento che è visualizzato, se non vederato gli organizzatori in conferenza, lo diranno meglio di me, da circa 400 milioni di persone nel mondo, lì attraverso questo strumento importante che porta con sé anche un racconto alla Calabria, è un mondiale, lo sport collegato al turismo per noi è fondamentale e immaginiamo attraverso questo veicolo di raccontare che cosa, quella che per quanto ci riguarda è una Calabria straordinaria. Siamo nel 2021, non era post-covid, però abbiamo visto che c'è una risposta da parte di tutti gli atleti di tutto il mondo che sono felicissimi di venire in Italia per gareggiare per questa importante competizione. Avremo due settimane intense, la prima si svolgerà il campionato del mondo Kite Fall World Series, un campionato del mondo a tappe che si svolge nei cinque continenti e ancora una volta siamo riusciti ad ottenere la tappa del continente europeo qui a Gizzeria. Sarà un campionato per adulti e giovani, abbiamo già registrato il massimo delle iscrizioni che sono 100 atleti. Per quanto riguarda la seconda settimana abbiamo il campionato del mondo giovanile, Under-19, che riveste di per sé una grandissima importanza perché saranno i futuri kiter che andranno a competere alle Olimpiadi di Parigi. E quindi c'è una grandissima attesa, anche lì abbiamo raggiunto il numero massimo che è di 80, quindi 180 atleti nelle due settimane.